Per un minuto di Storia con Mario oggi parliamo di Victor Orban, personaggio fondamentale, importantissimo e anche controverso della storia dell'Unione Europea del XXI secolo. Victor Orban è nato il 31 maggio del 1963, oppositore del regime comunista ungherese nel 1993 viene eletto per la prima volta in Parlamento dopo la caduta del regime satellite dell'Unione Sovietica. Viene eletto anche leader di Fides, un partito che nasce come liberale e si sposta progressivamente diventando un partito conservatore nazionalista molto mal visto dai soloni dell'Unione Europea, molto amato in patria.